Un uomo di Agropoli di 78 anni è stato ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo aver manifestato sintomi gravi, tra cui febbre alta e difficoltà respiratorie. I medici, sospettando di un'infezione da virus West Nile, hanno condotto esami approfonditi confermando la diagnosi. Attualmente l'uomo è intubato e le sue condizioni sono stabili ma gravi, ulteriormente aggravate dalle complicanze neurologiche legate al virus. Questo caso si aggiunge ad altri tre episodi di infezione da West Nile, segnalati recentemente ad Altavilla Silentina, San Mango Piemonte e Rocca d'Aspide, alimentando preoccupazioni nella comunità locale. Il virus West Nile, trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, è noto per provocare sintomi che vanno da lievi a gravi. In rari casi può causare encefalite, un'infiammazione potenzialmente letale per il cervello. L'attenzione delle autorità sanitarie massime, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia da Covid-19, la diffusione del West Nile, pur non raggiungendo livelli pandemici, solleva comunque timori riguardo a possibili nuove emergenze sanitarie. Il quadro complessivo è sotto costante monitoraggio con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.